Il Covid non ferma la solidarietà. La Onlussa di Ricesta ha raccolto, grazie al contributo di personaggi celebri, associazioni, società sportive ed esponenti politici, 12.000 euro volti al potenziamento dell'ospedale di Pescara. Ma non solo, donati anche importanti strumenti ad altri istituti abruzzesi, come al Centro di Diabetologia Pediatrica di Chieti, all'Istituto Tessuti e Biobanche di Pescara e alla Croce Rossa. È un'iniziativa di grande solidarietà sociale, di un abbraccio che arriva da tante persone, dal mondo dello sport abruzzese, dal mondo della politica e dal mondo del volontariato tutto. Quindi non possiamo non credere che l'Unione faccia la forza. E' ora di donare partita a ridosso proprio della pandemia che ci ha colpiti a marzo. E' un'idea che ci è venuta di sera parlando con i vari volontari e l'abbiamo messa in atto. Non pensavamo di raggiungere un ottimo risultato e soprattutto che continuasse. Quindi abbiamo aperto canali sulla rete del dono, canali YouTube, abbiamo potenziato Facebook. Addirittura abbiamo coinvolto personaggi di tutto l'Abruzzo che potessero aiutarci a raccogliere fondi per l'ospedale di Pescara. Però non potevamo rimanere fermi solo all'ospedale di Pescara. Per il Covid ci siamo diretti per l'ospedale di Pescara ma sono arrivati anche fondi perché c'erano delle richieste per altri reparti e anche di altri ospedali che avevano delle necessità.